Vi ricordate questa mappa vero? Ora questa vi sembra la mappa di prima ma in realtà Aggiornamento e si può correre sulle fottute pareti e anche andare in piedi tipo così perché tutte le camera si mettono su due zampe al contrario no? E adesso speriamo un po' la mappa a caso Scusate il lag ma la mia scheda grafica fa schifo perché ho un portatile Vive i bug! Yeah! No! No! Ah si può notare ora! Cosa per dire? Volevo andare a prenderti qui fuori d'artificio, non è giusto, questa è un'ingiustizia. Uh una camera d'oro, ho fatto un obiettivo Demogot Che obiettivo strano Io faccio achievement a caso Ok, tutti fanno achievement a caso, aspetta Bene Allora andiamo a Questa È Una Figata Capra, restaurant e bar Per un italiano Per giunta Cioè no no no, questa è una figata Beh, io sono italiano perciò voglio il drink gratis Capito? Voglio il mio Uh si possono dare calci indietro? Non lo sapevo Voglio il mio Il vetro e usciamo Voglio andare sull'una parte Ci voglio andare Eh chi è chi? Adesso voglio fare un giro Uh questo Ma dai Eeeh What? Ah sono io che li faccio cavalcare Lol Eh non ce la fate Non stai su di me Lol Vuoi fare un giro vero? Eh Vai con questa Non ti voglio Eh Bravo Questa è sicuramente una cosa molto intelligente Eh infatti L'ho bloccato pure Eh Muoglio non a invadermi No io volevo salirci Eh Da fuck Io non pago il biglietto Stronzi Lo voglio gratis Fammi salire Bastardo Missing game Voglio salire Qua sopra Oh Avete visto una cappella in una park? Bene Ora ce l'avete fatta E cosa fa una cappella in una park? Quando arriva in cima Aspetta un attimo Ma quella cosa da giù cos'è? No Sì ok Pensavo che sei immagato Sali Controlli la barca Dai Sì La barca è mia ora No non funziona Cioè andrò a piedi Ti pare Cioè a piedi si fa per dire Quell'isola ho già provato ad aggiungermela E non me la farà aggiungere Troverò in qualsiasi modo comunque dopo Allora Qua non taglio Perché ci metto poco da arrivare E Questa roba qua Sarebbe Allora A prima vista Sembra un'isoletta Però queste guppette Mi sembrano strane Adesso Secondo me è una balena Però Non vorrei dire Perché mi sembra un po' bassa L'acqua Ehm Non è assolutamente Una balena No Beh Che cosa si fa Ad una balena Se non Andare sul piattatoio Sì Sto facendo punti Dando calci all'aria L'estate Lol I believe I can fly Ho stonato perché Non voglio il copyright Solo per questo Quindi perdonatemi Per favore Fomagnobe finisce In posti sconosciuti Ok Sì lo so che Toggle Ragdoll Perché sì però Io voglio Andare al Luna Sì Capretta d'ora Io però Voglio andare al Luna Park E fare Il mio maledetto Giro Al Luna Park Capito? Quella pista lì Mi piace molto Mi piace Mi piace davvero Sì Questa l'ho presa Da Facebook Dai E' capra inutile Muovete Se quello è un aeroplano Jet Della polizia O roba del genere Allora Adesso dove si fa Il giro per questo coso? Ehi Tu sai qualcosa? Non sai niente Eh? Nell'acqua finisci Nell'acqua What the fuck Bene Allora Dove si fa Il biglietto? Questo no Questo nemmeno Dove si fa il biglietto? Per favore Non lo capirò mai Allora Ma ho inizio Sto coso Guarda La gente Salta in alto E non Che non vedo niente Da qua Porca Di quella Trota Dammi il mio biglietto Voglio Il mio Biglietto Uh C'è una capretta La sopra Adesso la vado A prendere Sì Adesso capiremo Dove si sale Secondo me Non si sale Ho questo Presentimento Adesso Ci so giro qui Adesso giro qua Poi vado qui Devo percorrere tutta la stradina Se no non riesco a capire dove va Sì Però Preferibilmente Senza bugarmi Guarda lì Ah Quindi Forse è qua Eccolo C'è qualcuno Che sta fissando L'ho capito Eccolo C'è qualcuno Gli piace Batteries Questa è attiva Non c'è voglia di farlo Adesso Lo farò dopo Voglio Andare Su questo Maledettissimo Cioè Devo fare Waramp Per salirci sopra Sali sì Ho capito Farò modo Eccomi qua Ho dovuto usare il cheat Perché non avevo capito Che c'è un ascensore qui Vabbè Era nascosto Tutto qui giù Adesso voglio fare il giro Però Dai Adesso fermiamo Il tempo Ok Voglio S10 Ce la fai capra Quello full shrift Questa è una figata Lol E finisco male Ok Riproviamoci Forse così Ho più fortuna Speriamo Invene Porta centrifuga No Non ce la farò mai Ok Dopo essermi rassegnato Io proporrei Di entrare in questo palazzo Gigantesco Tipo Uh aspetta Prima di salire sopra Satuina Allora Qui non so perché Quando le prendo Lati Perché avanti Pugli Siamo Un secondo Ok Allora Io voglio l'ascensore Perché ho visto Che c'era una vita Tipo Di un piano Ti fai scendere Porca paletta L'ascensore Mio C'è questa Disco party Sono troppo figo Ehi Voglio un drink Beh Ci sarei andato a piedi Ma non ne ho voglia Segui sopra L'ora deve fare male What the fuck Ok Questo È il top Del top LoL E ora Spooky Artificio LoL Beh ragazzi Che dirvi Questo primo gameplay Si conclude qui E vi lascio Alla citazione Di The Sanctum 2 O l'1 O il 3 Non so quale sia Non ci ho mai giocato E a questo altro gioco Che non conosco Probabilmente forse Farà parte Del stesso gioco Non lo so Ditemelo voi E ci vediamo Al prossimo gameplay E vi avviso Potrebbe anche essere Prima di lunedì Ma non aspettatevi niente Ciao a tutti Ciao a tutti